Questa è la terza parte del video di Conforami. Se non avete ancora visto le parti precedenti, andatela a vedere. Ecco qua. Siamo su prezzi normali, almeno, anche se, come ho visto ieri, anche questo lo devo prendere. Cioè, completo, guardate, lenzuolo di sopra, quello grigio, costa la metà. Non si sa come mai, costa la metà. 7,99 euro, oppure anche il rosso costa di meno. 7,99 euro. Anche costa di meno, anche quello bianco. Qua sono da vedere, guardate questo qua, Fuchs. Singolo, 4,99 euro. E' bello quello di Fuchsia, però. Questo com'è? Ecco, cosa sono Federer? No, per dire, guardate, Fuchsia, 4,99 euro. Sì, perché qua, magari, anche rispetto ai colori, fanno prezzi diversi. Poi ci sono copriletti. E probabilmente mia sorella l'ha comprato in quel reparto. Qui ci sono tappeti. Tappeti, un tappeto che volevo prendere già al tempo, era questo qua, 50 euro. Adesso me lo trovo scontato pure del 15%, quindi lo pago veramente poco. E che bello quel tappeto. Poi, bocce, ne sono i tonti, i tappeti. Questi 34. E come piace anche questo qua, arancione. Vedete per la cucina che bello che è. A Martina non piace e quindi non si compra. Vabbè. Ecco qua, qua ci sono, vedete, ecco, altre cose per il letto, lenzuoli. Ah, non lo so. Qua ci sono trapuntino, trapuntino, 24 euro. Ah, che bello questo. Ok, questo. Oh, guardate questo che bello, che è a trapunta. 29 euro trapunta. Ecco me, ad esempio, mi piace sentire il peso delle coperte. Sinceramente, più che la trapunta. E ho visto, allora, confezione 3 bicchiari, 1,94 euro. Perché sono scontate del 15. Questo cuscino, guardate che bello. 12 euro, 2,9 euro. Ecco qua. Queste tende costano un tubo. Inizio che ha 4,99. Ok, segnalato. Segnalato tende a 4,99. Cioè, voglio dire, non sono tende brutte. Sono al 50%, sono. Questa qua è veramente bella. La dobbiamo fare vedere, pure quella. Vediamo, vediamo Martina se va bene, si abbina bene, è tutto. Vediamo cosa dice. Ecco qua. Ecco qua. Qua abbiamo i bicchieri, la mia passione. Però ne ho comprati talmente tanti che non... Guardate questi che belli. Al prezzo... Ah, sono scontati. Ah, Martina, me ne compro altri. 3,95. Che belli questi bicchierini colorati. Tipo, ieri questa offerta non c'era. L'avrò messa oggi. Che bello. Guardate queste tovaglie che belle. Questa è sempre, guardate, stile acqueredo, sempre. Vedete che bello che è. Questa deve essere, sì, tovaglia antimacchia. Sì, 10 euro. Queste sono 10 euro. Che bello. Bellissime fantasie. Qui abbiamo pentole. Lo vedi? Qui c'è il reparto dell'illuminazione. L'illuminazione pure... Ci sono dei lampadari bellissimi, ma proprio belli, eh. Guardate, guardate che forti che sono. Su questo, guardate, al 50% ve lo trovate a 14%. Guardate che bellissimi che sono, eh. I lampadari sono moderni. Questi, lo vedete? Questa colonna, viola. Le piantane. Dunque, le piantane, guardate, 29 euro, segnalata. 29 euro, questa pure, me la comprirei pure io questa. Compriamola. Segnalata, eh. Dunque. Quindi qua sono i lampadari. Vi ho visto un paio di lampadari veramente belli. Guardate questi. Questi sono canvas. E c'è lo sconto di 30% su tutti i canvas. Guardate solo che belli che sono. Sono bellissimi, sì. Ah, questo di Topolino, immagino. Questo viene 29. Con Topolino. Topolino, Topolina, che belli. Questo è il quadro dell'Iris di Van Gogh. Questo qua. Questo 34 solo, cavolo. Eh, perché abbiamo detto che ci sono sconti. Sono scontati. 31 quello. Guardate che bello. No, questo 34, questo. 34 e 29. Questo è decisamente grande, però è bello. Insomma, qua ce n'è un po', sono scontati. E te, gli elefanti oppure le zebra. Che bella scena. Sono canvas sul vetro. Qui ci sono orologi. Questo reparto non mi piace particolarmente gli orologi. Sarà a me che non piacciono gli orologi. Di qua sono cornici. Cornici. Proviamo a vedere che mi possono anche servire. Ecco qua. Ah, però ne ho visto una carina. Questa qua. Vedete questa? Sì, tipo quadri. Sono anche belle. Sì. Sono anche belle queste. Sì, bisogna un attimo guardare, perché... Guarda quell'argentato. Bisogna un attimo guardare. Questi sono... Guarda, il famoso profumatore d'essenza di aroma. 15%, quindi 16 euro. Lo pagate che costa decisamente di più. Questa candela 1,69 euro. Sento un profumo. Sento fino a qua. Allora. Guardate che forte. Ho visto questi sgabellini qua. Puffo e sgabellini. Questi servivano 29 euro. Guardate che belli che sono. Quelle sono scatole componibili, sono. 30 euro costano. 27. 18 euro. Queste qua 18 euro, vengono. Questo viene 18 euro. Questa veramente 9 euro. E c'è lo sconto su tutti i puff. Lì dipende, penso, dalla fantasia. Guarda, questo l'ho trovato a 9,90 euro. 8 euro. Questo addirittura 6 euro con l'anguria. Io penso che facciano, in base alla fantasia, quelle che vendono di più o quelle che vendono di meno, secondo me. Penso. Ho trovato una cosa carina, che non so che cosa sia. Guardate questo quadro che forte che è. Questa è una roba nuova. Non l'avevo mai vista, così qui. Sì, ogni tanto c'hanno, se pare, c'hanno robine nuove ogni tanto da guardare. Queste vasi. Guardate qua, è tutto al 15%. Tutto al 15%. Una bella offerta, diciamo. Qui abbiamo questa. Guardate che bella quella luce. E poi che a me piace, guardate. Questa statuetta qua, guardate che bella. Questa statuetta abbastanza grande. Ma che guardavo prima, guardate. È l'ochetta. Che bella in poliresino. 9,99 euro. Qui ci sono i faretti solari. Queste sono belle. Le abbiamo messe in cortile e queste sono belle. Ma il prezzo costano veramente buone. E poi, infine, c'è un reparto di fiori. Fiori finti. Piante finte. Ma il tipo che vi faccio vedere. Molto belli questi. Guardate, 4,99 euro. Questi qua, grandi. E... Guardate qua, cosa vi sono noi. Va bene, ragazzi. Qui, da Conforama è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi.